Evita diciamo, evita sempre. No, i prodotti da forno? No, i prodotti da forno lo stanno bene. Magari c'è scritto preferibilmente? Ce l'ha scritto? I prodotti da forno? I lotte non hanno uova, latte, quindi ovviamente non puoi. Però le frise sono pane, è puro pane. L'ha scottato dall'altro. Vedi quanto vuoi? Uccide qualunque cosa. Poi sapete che per un pugliese sprecare le frise è veramente una delizia. Come sprecare i taralli. Grazie. 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 Grazie.